Ragazzi, mi state chiedendo praticamente tutti cosa ne penso su Miranjook, ma voi pensate che sia una novità al fan da calcio per me? Mandiamo la sigla e poi ne parliamo Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special Innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo il canale con questa serie, soprattutto molto seguita Mi auguro poi non abbandonate il canale anche nel periodo infernale E ringrazio appunto a tutti coloro che si stanno unendo alla nostra community, molto attiva anche tramite commenti, mi raccomando Vi ricordo di passare anche dei link che trovate in descrizione, tra i quali c'è quello per scaricare OneFootball L'applicazione gratuita che vi terrà aggiornati su tutto il mondo del calcio Soprattutto in questo periodo di calcio mercato per i fan allenatori è importantissimo Intanto sono andato anche a prendere un articolo all'interno del sito che riguarda un certo giocatore del quale mi state chiedendo Eccolo qua, Miranciuk ragazzi Arrivo all'Atalanta Appena ho sentito la notizia diversi giorni fa ho capito che si trattava di un altro nome sul quale avremmo discusso tantissimo in preparazione all'asta Ma perché io non è la prima volta per quanto riguarda Miranciuk e il fantacalcio? Perché nel 2018 vi portai all'epoca il fantamondiale, abbiamo fatto un fantacalcio sul mondiale che era appunto in Russia E il calciatore insieme ad altri nomi erano tra i più appetibili Ovviamente c'era anche Golovin che aveva preso all'epoca e le mie rose aveva fatto anche molto bene Quindi non è la prima volta che si parla di Miranciuk comunque al fantacalcio Ovviamente sto scherzando, cioè nel senso che quello era tutt'altro gioco Però lo osservo già da un bel po' Non è come magari alcune scommesse, come fu magari Malinoski l'anno scorso Ma Miranciuk lo conosco da più tempo e quindi sono stato molto molto piacevolmente sorpreso ecco del suo arrivo in Serie A Quindi attenzione, ne parlerò comunque adesso nell'episodio Io vi lascio comunque il link in descrizione, poi c'è anche l'articolo dell'annuncio e il tutto Ci sono vari articoli interessanti, non solo sul Miranciuk ma anche sull'Atalanta Trovate veramente di tutto, link in descrizione Ringrazio anche tutti coloro che si stanno abbonando al canale Scrivetemi poi in privato per essere aggiunti al gruppo Telegram degli abbonati Anche per quanto riguarda i sub Ho mandato anche l'email a tutti coloro che si sono abbonati ieri al canale Twitch Perché appunto vi faccio aggiungere al gruppo Telegram E tra l'altro stasera saremo in live, dalle 21 circa Va bene, detto questo non perdiamo troppo tempo ragazzi Dai, andiamo con il terzo episodio del vi consiglio al fantacalcio Allora, partiamo sempre con le giuste premesse Sono analisi provvisorie ragazzi, mi raccomando Fatte al 31 d'agosto Quindi mi raccomando, prendetelo con le pinze Partiamo? Via, dai Si parte con l'affidabile Donnarumma ragazzi Il portiere del Milan È un portiere affidabile? Assolutamente sì Buono per rendimento Nel senso, buono per modificatore Ha sempre delle buone prestazioni Anche quando magari subisce qualche gol Magari fa una buona prestazione Quindi nel complesso non prende un'insufficienza grave Ogni tanto ci sarà magari la giornata no Ma in più è un pararigore L'abbiamo visto anche questa stagione è stato poi clamoroso Se non sbaglio ne ha parati ben quattro Quindi è stato utile anche per portarsi a casa diverse giornate al fantacalcio E a livello di acquisto ragazzi Potrebbe costare tanto quest'anno Se riuscite a portarvelo sotto il 6% Quindi sotto i 30 fantamilioni Su 500 Quindi un 25 Questo è già un buonissimo prezzo La difesa del Milan si è solidificata un po' Con Kier che è migliorato molto Accanto a Romagnoli Insomma potrebbe rendere abbastanza bene Perché quando parliamo di portieri al fantacalcio Dobbiamo considerare ovviamente la difesa che hanno davanti E si è un po' solidificata Quindi secondo me potrebbe essere il terzo nome del fantacalcio Quindi se ve lo portate a casa sotto i 30 crediti Quindi a 25 anche meno Addirittura su 500 Già sarebbe un ottimo un ottimo acquisto Passiamo invece all'inaffidabile Paolo Lopez Quindi restiamo sempre nel reparto della porta Paolo Lopez Ma inteso anche con portiere Roma Perché comunque col calciomercato potrebbe variare un po' la situazione Voi monitorate il tutto Però ragazzi Perché l'ho messo in inaffidabile? Perché lì dietro nella Roma A parte un po' di trattative Giocatori che vanno Giocatori che vengono Quindi ci sarà un po' No Smalling che Quest'anno appunto era in prestito Non sembra Poter ritornare Anche se c'è una trattativa a quanto pare in corso Insomma Ci sono troppe situazioni incerte E sinceramente io non me la sento Di andare a scommettere Come primo slot Su un portiere Che ha davanti una difesa Costruita un po' in maniera così Quasi random Quindi non mi convince questa Questa cosa Questo reparto della Roma Altre reparti offensivi magari sì Ma la porta non mi convince Quindi ci sono troppe incognite in difesa Di scontinuità anche di rendimento Perché anche lui Un po' di errori ogni tanto li ha fatti Quindi anche la schierabilità Complicata Ovviamente ci si può andare a studiare Magari un abbinamento intelligente Ma Ce ne sono di migliori Ce ne sono di migliori Per qualche credito in più Magari mi vado a prendere un portiere Più affidabile Con un reparto davanti più solido Al livello di acquisto Quindi sconsigliato Se non proprio in saldo Prezzo massimo Vi ho messo 3-4% Perché sotto i 15 credit Lo andrei magari a prendere Ma già vicino ai 2020 No Ci sono portieri Su 500 in dentro Quindi Ci sono portieri comunque migliori Passiamo invece al low cost Ho messo Simi Però attenzione Perché questo è un low cost particolare In alcune leghe Potrebbe avere un prezzo elevato E Ma non ve lo consiglio Cioè Il mio L'ho messo proprio nel low cost Per darvi una direttiva Non pagatelo troppo È comunque un giocatore da avere Non nel tridente titolare Ma nella propria panchina E come vi ho detto I soldi Soprattutto per l'attacco Li dovete spendere per il vostro tridente Poi se riuscite anche ad avere dei crediti in più Per il quarto o quinto attaccante Va bene Ci può stare Ma l'importante è che non investite Troppi crediti Su giocatori Che dovreste utilizzare All'occorrenza È sempre comunque un attaccante Del crotone Ok Una squadra neopromossa Quindi non possiamo sapere Il rendimento che avrà in serie A Ha fatto benissimo In serie B Dovrebbe anche essere rigorista Ok Quindi questo è una cosa Diciamo Una clausola Se vogliamo Che vi fa prendere ancora più Appetibilità Quindi dovrebbe essere titolarissimo Possibile doppia cifra Sì ci può stare che raggiunga la doppia cifra Ma non è assolutamente certo Perché come detto Viene dalla serie B Quindi non possiamo sapere Che tipo di rendimento Che approccio avrà la serie Anche se comunque c'è stato Già qualche anno fa Un ottimo rapporto Rendimento costo Lo potrebbe avere Come detto Se lo pagate davvero poco Quindi consigliato Come quarto windows lot Non nel tridente titolare E il prezzo massimo Quindi sarà Quarto per cento Ma come vedete Io ho scritto proprio inutile Quindi perché È inutile Che vi metta un prezzo Se lo dovete prendere Come quarto windows lot Potrebbe avere qualche credito Potete prenderlo magari a 10 credit Potete prenderlo a 25 Quindi è inutile Che vi metta un prezzo L'importante è che gestite bene I vostri crediti per il tridente Passiamo alla scommessa ragazzi Come vedete Eccolo qui Miranciuk Se notate Non ho scritto la scommessina Ma la scommessa Perché il giocatore potrebbe avere Un prezzo Non proprio da ultimo slot Infatti non credo Lo prendiate come ultimo slot È un giocatore valido? Assolutamente sì ragazzi È forte Ma molti lo paragonano Al Mialinoski L'anno scorso Attenzione La situazione è differente In più c'è da capire La situazione Ilicic Perché Il suo rendimento Il rendimento di Miranciuk Potrebbe essere legato molto Al discorso di Ilicic Vedremo Verrà ceduto Verrà riconfermato Appunto all'Atalanta Si prenderà il posto da titolare Insomma Bisogna valutare anche La situazione Ilicic Per poi capire Che rendimento potrà avere Miranciuk Che tipo di giocatore è? Innanzitutto partiamo da quello È un giocatore Che può portare molti bonus Ma più assist che gol Infatti a differenza di Malinowski Che dal limite Tipo scaricare quel bolide E portarti magari il più 3 Lui predilige forse l'ultimo passaggio Quindi ti può fare Con alta qualità Ragazzi Un assist Sopraffino Quindi può prendersi Buone valutazioni E portarsi a casa Un buon numero di assist Quindi magari Rispetto a Malinowski Che l'anno scorso Ha fatto 8 gol E 3 assist Lui potrebbe fare il contrario Quindi 4 gol E 7 8 assist Qualcosa del genere Quindi Mi aspetto cose positive A livello di scherabilità Non sarà semplice Perché come detto Sarà spesso in ballottaggio Poi bisogna capire Quali giocatori avrà a disposizione La DEA Sulla 3 quarti Quindi monitorate anche il calciomercato Quindi non ha la titolarità certa E questo può essere il vero difetto L'utilizzo Nella vostra formazione Però se siete Se lo prendete Ecco con un reparto Abbastanza completo L'acquisto secondo me Vale la pena farlo Infatti consigliato Con qualche rilancio Potete anche andare Sui 10 15 credit Su 500 Un po' come Malinowski A livello di acquisto Come Malinowski L'anno scorso Vi ho consigliato Di fare qualche rilancio Perché mi ispirava molto Lui come detto Mi ispira un po' di più A livello di assist Infatti perché Non voglio paragonarlo A Malinowski Ma voglio paragonarlo Un po' al Papu Gomez Che in questi anni Ha fatto più assist Che gol Quindi è un po' simile A lui Se consideriamo I bonus che porta Va bene Comunque ha un piedino Ben educato I gol E li può fare benissimo Anche lui In coppia solo Molti si stanno chiedendo Lo vado a prendere Con Malinowski Con Basalic Con chi Lo vado a prendere O lo prendo da solo Lo si può prendere da solo Come detto Se avete un reparto Abbastanza completo In un video Diciamo Dedicato ai cicciolodi Ne parlerò in maniera Più approfondita Per il discorso Eventualmente coppie Perché Ne parlerò in quel video Non vi posso Spolere nulla Perché i miei avversari Guardano questo video Quindi Lascio un po' di suspense Passiamo al crack Ragazzi Paolo Di Bala Perché Allora Non sappiamo ancora La punta Che arriverà Alla Juventus Si parla di Suarez Si parla di Zeko Si parlano di tanti nomi Ma ancora non è arrivato nessuno Una cosa che è certa È che Di Bala È all'apice Diciamo della sua carriera Inteso anche come Fisico Come rendimento Che ha avuto Anche l'ascesa Che ha avuto Lo scorso anno A livello di Diciamo Gol Ecco Quindi dal punto di vista Anche profilifico È migliorato tantissimo Media e fantamedia Molto alta C'è un attaccante Che comunque Anche quando non segna Il buon voto A casa E questo non è da sottovalutare Quindi quest'anno Come secondo slot È uno dei migliori A mio giudizio Può avere un buon rapporto Rendimento costo Magari ti azzecca Anche la super stagione Tipo Ti si avvicina Ai 20 gol Non è scontato Il costo sarà comunque elevato Se riuscite a pagarlo Meno del 17 19% Quindi meno di Non so Di 100 Su 500 Quindi un'ottantina Di fantamilioni Ci potrebbe stare Fate un buon acquisto Come spalla E magari poi un terzo slot Da doppia cifra Lo potete anche trovare Ok quindi Attenzione All'acquisto di Dybala Potrebbe regalarvi Se gioia E poi con l'arrivo Eventualmente Si parlava di Suarez Anche un palo di Dybala Potrebbe rendere bene Perché si potrebbero Loro due E CR7 Trovare con una buona affinità Poi c'è anche Klusveski Insomma Voglio Secondo me Scommettere Sul palo di Dybala Come secondo slot Potrebbe dare Molte soddisfazioni Passiamo All'esca Alexis Sanchez Attenzione qua ragazzi Perché questa non è La classica Esca Ci sono due Infatti Fattori Che possono condizionare Il suo costo Il momento In cui lo chiamate E la composizione Della vostra Lega Infatti vi ho messo Interesse da parte Di tifosi interisti Che magari L'hanno visto Giocar bene Ecco Passa pure Il camioncino Dei gelati Che ci disturba Comunque L'hanno visto Giocar bene Quest'anno Quindi lo vorrebbero Magari nella propria rosa E' un nome Comunque altisonante Ok Ma non titolare Proprio per questo Non lo andrei a prendere Magari I miei tre slot E quindi Se lo andate a prendere Come quarto Windows slot Dovete pagarlo Poco Non dovete investire Quanti crediti Quindi consigliato Se preso in saldo Se lo chiamate Prima Potete sperimentare L'esca In genere Io le esche Le faccio tra Centrocampo E difesa Perché sono i reparti In cui l'esca Funziona meglio Per l'attacco Alla fine Non ha più Gran che senso Dal fare L'esca Se non per qualche nome Magari che non volete prendere Nel caso di Alex Sanchez Se lo potreste anche Portare in saldo Se lo chiamate anche prima Dipende appunto Come è composta La vostra Lega Sotto il 3% 3-4% Quindi un 15-20 Fanta milioni Ha senso Pertervelo in panchina E utilizzarlo all'occorrenza Perché le sue buone prestazioni Le fa Qualche bonus Lo porterà Ma non essendo titolare Io non lo andrei a prendere Tra i primi slot In coppia con Lautaro In Lega Abbastanza numerose Ci può stare Così siete certi Di avere un attaccante Dell'Inter Sempre titolare Quello si può fare Ok Passiamo a questo punto Al top Teo Hernandez Ha utilizzato come immagine La nostra grafica Del nostro store Del treno Hernandez Altissimo rendimento E fantamedia Pazzesca ragazzi Spinge tantissimo Anche quando non porta bonus Comunque si porta spesso a casa Il 6 e mezzo 7 Quindi è buono Sia con modificatore Che senza Perché comunque ti segna Anche diversi gol E ti fa magari degli assist Quindi avrà un costo elevato Avrà un costo elevato Vicino sicuramente Ai 30 Fanta milioni Su 500 Però potrete comunque prevederlo Il suo costo Se effettivamente Va Magari Siete fortunati Che dipende Di tipologia Di Lega Ok Di Asta Soprattutto O un Asta Random Viene chiamato magari Verso gli ultimi nomi Allora lì Tenetelo d'occhio E portatelo a casa Magari potrebbe andare via In saldo Fanta milioni Ad esempio 20-25 È un buon acquisto A quel punto Ok Quindi tenetelo d'occhio Passiamo alla rivincita Cullibari ragazzi Altro difensore Delusione Nella scorsa stagione Quindi potrebbe magari Avere un costo all'asta Non come quelli precedenti Che si avvicinava A 25-30 Fanta milioni Ma si potrebbe mantenere Intorno ai 20 O addirittura meno È buonissimo Per il modificatore Mi aspetto da lui In una stagione Più positiva Dello scorso anno Anche perché fare peggio È un po' complicato Ma non ai livelli Magari degli anni Passati Dove prendeva 7 Fisso Consigliato Anche se non in saldo Quindi intorno ai 20-30 Milioni Ci potrebbe stare Se lo pagate ancora di meno Tanto meglio Occhio al mercato Perché ha un po' di voci di mercato Su di lui Il Napoli Comunque si è coperto Anche con Rachmani Ha preso comunque A Maximo C'è anche Manolas Insomma è abbastanza coperto lì Il Napoli Però dovesse restare Cullibari Sarà ovviamente Il titolarissimo Questi erano Neomi del terzo episodio Voglio sapere ovviamente La vostra opinione Su questi nomi Qua sotto Nei commenti Vi ringrazio anche Tutti coloro che stanno passando Anche dal nostro store Come vedete ragazzi Allora un attimo ve lo mostro Perché Oltre alle varie classiche Diciamo grafiche Potete trovare C'è Quella per quanto riguarda Alcune squadre Molti ho visto che sono presi Quella di Acciughina Quindi così si presentano All'assa Con la maglia Della propria squadra C'è quella del Pescaramanzia E dello Scarsenal Quindi se avete la squadra Intitolata in questo modo Potete darci un'occhiata C'è quella di Bomber Ciccio Caputo Quella di Lucarro Armato Del Treno Hernandez Appunto Quindi dateci un'occhiata Ragazzi E' quella di Malinoski E' il nostro Malibum Comunque Detto questo ragazzi Io vi ringrazio Per la visione E ci vediamo Come detto stasera Intorno alle 21 Prima Su Youtube E poi ci spostiamo Un po' Anche su No In realtà sarà Per lo più Su Carmi Special TV Ci saranno gli ospiti Gli abbonati Appunto ospiti Quindi mi raccomando Vi aspetto Che intorno alle 21 Iniziamo Va bene Detto questo Vi auguro buona fortuna Ragazzi E che dire Voglio sapere la vostra opinione Qua sotto nei commenti Un bel like Non farebbe male Ciao ragazzi